Musica Ci aspettiamo un effetto sulla promozione del marchio, non solo a livello locale ma a livello nazionale perché la nostra idea è di crescere con una logica, piano piano, senza fare dei proclami però con i piedi per terra, facendo sempre un prodotto migliore, entrare nel segmento del running per noi qui è anche un ritrovo da trovarci e di parlare di atletica La promozione della corsa soprattutto in un territorio splendido come questo, credo veramente meriti il plauso di tutti non a caso Runners World ha dedicato un ampio servizio a tutta quest'area che è ricca di corridori, ricca anche di campioni Non ho altro da dire davvero perché questo è un ambito che per noi è diventato un appuntamento importante dell'anno all'inizio della primavera generalmente per noi vuol dire un po' Treviso Marathon Musica